Una tragedia che scuote tutto il territorio della Capitanata. La scorsa notte è morto all'ospedale Maselli Mascia di San Severo il sindaco di Sanicandro Garganico Costantino Ciavarella. Il 65enne medico e primo cittadino del comune garganico era ricoverato dallo scorso 26 dicembre dopo aver contratto il covid. La sua professione sin dall'inizio della pandemia lo aveva messo in prima linea contro il virus e proprio durante l'esercizio della sua attività si è ammalato. Qualche giorno fa sembrava che le sue condizioni fossero in miglioramento poi il brusco peggioramento e dopo 11 giorni di agonia all'interno del reparto di rianimazione dell'ospedale di San Severo si è spento lasciando sgomenta l'intera comunità garganica. Ciavarella era stato eletto nel centrodestra alle scorse elezioni comunali del 2018 ed aveva intrapreso un lavoro importante per la valorizzazione del territorio e dei monumenti come il castello normanno aragonese. Numerosi i messaggi di cordoglio che sono giunti dai sindaci delle città più vicine e dalle principali figure istituzionali regionali. A Sanicandro Garganico è stato proclamato il lutto cittadino con bandiere a mezz'asta in tutti gli edifici pubblici e la chiusura del cimitero. Tutti i cittadini e associazioni culturali, sociali e produttive potranno esprimere in forma autonoma la propria vicinanza al lutto.